a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo del tfa sostegno ottavo ciclo ecco cosa c'è da sapere c'è le ultime novità sull'ottavo ciclo tfa sostegno allora la prima domanda e quando uscirà il bando per partecipare alle prove prese lettive per l'accesso al corso tfa sostegno 2023 2024 i tempi per la pubblicazione del bando sono ormai in forte ritardo si attendeva almeno già da un mese che fosse pubblicato il decreto ministeriale quindi il bando per l'accesso alle prove del tfa sostegno 2023 2024 dunque siamo in forte ritardo e presumibile che tale decreto ministeriale quindi il bando siano pubblicati in giugno ma comunque in estate ma questo comporterebbe un probabile ma non sicuro slittamento delle prove prese lettive per l'accesso al corso tfa sostegno ottavo ciclo a settembre 2023 comunque seguiteci su questi nostri canali social sul nostro sito www.tecchinaescuola.it perché andremo proprio a monitorare questa situazione del tfa sostegno con dirette e non solo seconda domanda i docenti con almeno tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque anni complessivi e anni scolastici si intende potranno accedere direttamente senza necessità delle prove prese lettive al tfa sostegno allora diciamo che fino al termine del 31 dicembre 2024 al termine transitorio fissato al 31 dicembre 2024 come specificato dal decreto legge 36 del 2022 ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti delle della riserva di posti stabilita dal decreto del ministero dell'università e della ricerca di concerto con il ministero dell'istruzione coloro ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello stato che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione dunque ivi compresi le scuole paritare i percorsi di istruzione formazione professionale delle regioni e che siano in possesso dell'abilitazione o e del titolo di studio valido per l'insegnamento terza e ultima domanda il dottorato di ricerca e titolo utile per la gradatoria finale del tfa sostegno diciamo che sì il dottorato è un titolo utile il dottorato di ricerca se è svolto nel settore pedagogico ped barra 03 m trattino ped barra 03 allora questo dottorato di ricerca vale due punti se invece si tratta di un altro dottorato di ricerca allora varrà un punto però in ogni caso il dottorato di ricerca e titolo diciamo che serve per inserirlo nelle gradatori del tfa sostegno speriamo che tali risposte siano state utili ai nostri telespettatori seguiteci ancora nei nostri canali social facebook youtube con le dirette e nel nostro sito perché sarete informati su questo e anche su altri argomenti arrivederci